In chiusura dell'ultimo video ho ricordato come la tabella hash originale, qui rappresentata in alto a sinistra, capace di soli 128 simboli, da 0 a 127 i loro codici, sia stata estesa con ulteriori 128 grazie all'aggiunta o meglio all'utilizzo dell'ottavo bit. La tabella originale non usava 7, quella estesa non può che usare anche l'ottavo per arrivare a 256 combinazioni. Neanche queste sono però sufficienti, potremmo al limite accontentare l'utenza statunitense come al solito e quella qualche altra nazione ma giusto con qualche carattere in più. Una soluzione transitoria per rispettare il giusto orgoglio nazionale è stata quella di adottare, e mi sto riferendo allo standard ISO 8859, una codifica che affianca per ciascuna nazione una sua tabella. Per cui, pensiamo ai vecchi file di configurazione di Windows, ma è ancora prima dell'MSDOS, il sistema operativo installato su un PC in Italia, mi viene configurato nei mitici file .sys, indicando come tabella di utilizzo la fantomatica 8859-1, oppure chiamata anche la ISO Latin1, che più o meno accomodava le cose per una buona parte delle nazioni europee occidentali. Altre furono preparate per quelle orientali, e così via. Microsoft poi ci mise nel suo per complicare ancora di più le cose, inventandosi una sua tabella estesa, codopage 1252 per chi ricorda, che di nuovo era quella tipica per la codifica del lingue dell'Europa occidentale. In effetti poteva essere considerato un superset ancora della ISO. Il meglio sul quale a livello mondiale si era riusciti a mettersi d'accordo, prevedeva l'adozione da parte di ciascun paese di una sua tabella, dove almeno i primi 127 caratteri erano praticamente, diciamo così, identici, indipendentemente dalla nazione. Ma oltre il 127 ci si avventurava in terre, dove regnava l'incertezza. Ecco allora che secondo la tabella in adozione in Europa centrale, al 176 poteva corrispondere il pallino del grado centigrado, mentre nell'Unione Sovietica la loro lettera A cirillica. Per cui due messaggi di ipotetici climatologi non contenenti l'indicazione della codifica in adozione, potevano generare nei rispettivi clienti post elettronica notevoli fraintendimenti. A peggiorare le cose, le regioni asiatiche, dove è facile trovare, pensate al cinese, lingue basate su una moltitudine di ideogrammi, per codificare i quali un byte non era fin da subito sufficiente. E infatti le codifiche adottate prevedevano anche due byte. Questo però, potrebbero immaginare, generava ancora più incompatibilità tra i diversi sistemi a livello mondiale. E avevi voglia a voler commercializzare un tuo applicativo, internazionalizzarlo. Bisognava davvero fare i salti mortali per cercare di capire esattamente cosa proporre sullo schermo di quel benedetto e poveretto utente finale. L'informatica negli anni è diventata davvero una questione globale, per cui questo problema ad un certo punto non poteva più essere ignorato. La successiva evoluzione, che ha praticamente eliminato qualunque tipo di limite nel numero di caratteri, di serie di caratteri, arabo, indiano, polinesiano, quello che volete, si chiama Unicode. Pensate ad Unicode come a un enorme mappone, dove sono presenti tutti, ma proprio tutti i caratteri. Un elenco, che potremmo anche rappresentare graficamente in forma tabellare. In questo schema, ogni quadratino colorato rappresenta in realtà un insieme di 256 caratteri. Per non rompere la compatibilità con la maggior parte dei applicativi di stampo più che altro occidentale, era così qualche decennio fa, si è deciso di privilegiare i simboli corrispondenti ai nostri alfabeti occidentali, che hanno trovato posto, guarda caso, proprio qua all'inizio, nell'angolino in alto a sinistra. In questi primi 256 caratteri trovano posto quelli che corrispondono da 0-127 come posizione agli stessi caratteri che trovavamo, abbiamo detto, praticamente identici in tutte le varie tabelle di codici. La grossa differenza rispetto a prima, è che adesso andando a considerare uno dei 128 codici fino a 256 che prima cambiavano in ogni tabella nazionale, adesso sono stati fissati uguali per tutti. Anche qui, secondo criteri di rapporti di forza sullo scenario internazionale, chiaro che tu l'americano, lo stuintenso, non lo convinci ad usare codici che lo mettono in posizione di svantaggio, sarà il contrario, anche perché la sua forza sul bilanciere internazionale era enorme, lo è tutt'oggi, lo sappiamo. E così possiamo estendere anche questo strapotere a livello occidentale. Ecco perché anche gli altri posti, i primi tre blocchi da 256 simboli, sono tutti dedicati al Latin script. Poi, in questa gradatoria forse anche un po' antipatica, vi troviamo non Latin, ma europei, e così via. Sembrano già un'infinità, vero? Eppure questo non è che uno dei 17 piani plane che formano l'intero universo Unicode. Quello che abbiamo appena discusso viene indicato anche con il nome di Basic Multilingual Plane, BMP, il piano 0. Poi abbiamo il Supplementary Multilingual Plane, quindi un terrore blocco supplementare. Plane 2, che è il Supplementary Ideographic Plane. E così via, fino ad arrivare all'ultimo che è il diciassettesimo, che è strano perché tutto va con le potenze di 2, no? In informatica, quindi ci avremmo aspettati in modo naturale, non so, 16 plane. Questo è un motivo tecnico che però non mi interessa approfondire. Facciamo allora quattro conti. Ogni minuscolo quadratino contiene 256 caratteri, o meglio simboli, molti dei quali corrispondono a dei caratteri dei diversi alfabeti, ma non solo. E ogni singolo simbolo corrisponde a quello che non è code, viene chiamato un code point. Quindi un simbolo, un carattere, un code point. Da qualche parte troveremo la Z maiuscola, quella corrisponde a un code point, la Z in cirillico corrisponderà a un altro code point, e così via. Quindi ogni blocchettino 256 code point, simboli. In un plane abbiamo 16x16 blocchi da 256 code point, che fanno la bellezza di 65.536, cioè 2 alla sedicesima, o 256 al quadrato, se preferite. Tutti e 17 i piani corrispondono alla bellezza di 1.114.112 code point. Le coordinate binarie di 1 qualunque di questi code point, simboli, sono rappresentate da 6 cifre esdecimali, di cui le prime due identificano il plane, però senza sfruttare l'intero possibile range, perché con due cifre potremmo arrivare a ff256 plane, vuol dire che ci si fermerà a 10, che corrisponde appunto a 16 in esdecimale. Per cui il basic plane avrà come coordinata di piano 0,0, e l'ultimo come coordinata di piano 1,0. Le altre 4 cifre esdecimali, invece, servono proprio tutte, da quella con tutti i 0, a quella con tutti i 1, che corrisponde a ffFFF, che è la posizione all'interno di quel plane corrispondente all'ultimo code point, l'ultimo quadratino in basso a destra, 65535. Finito, direte voi. Ogni cifra esdecimale necessita di un semi-byte, cioè di 4 bit, come dire che con un byte riusciamo a codificare due cifre esdecimali. Un byte, due byte, tre byte. Usandoli, possiamo identificare in modo univoco qualunque code point di questa bella. Ma la realtà, per vari motivi che poi vedremo, non è quella che a volte si spera, e dovremo confrontarci con un nuovo concetto, e cioè quello del encoding dei caratteri. Ne parleremo però nell'ultimo dei video, il prossimo, che dedicherò all'Unicode. A risentirci.